Buonasera, buonasera, benvenuti al Tg della Sette. Qualche anticipazione sulle notizie di cui parleremo fra pochissimo nel nostro telegiornale. Allora, in primo piano abbiamo ancora la crisi internazionale. Perché? Che cosa è successo? Allora, le borse oggi hanno chiuse, le borse internazionali, tutte, come si dice in questo caso, col segno negativo. Un dato, Milano ha chiuso a meno 1,71 e lo spread è risalito. A provocare tutto questo sostanzialmente sono state due cose, due notizie. La prima, che arriva dagli Stati Uniti, per una notizia di macroeconomia, riguarda i dati sulla disoccupazione. Aumenta la disoccupazione negli Stati Uniti, questo non si attendeva. Peraltro sarà una bella grana per il Presidente Obama in campagna elettorale. E questo si è risentito sui mercati. L'altra è il pessimismo, il clima di pessimismo che continua a esserci sulla situazione in Grecia. Allora, ricordiamolo, facciamo un passo indietro. Il Premier greco Samaras aveva chiesto, parlando con il Presidente dell'Eurogruppo Juncker, cosa aveva chiesto? Aveva chiesto non soldi, anzi aveva detto, guardate, noi restituiremo tutti i debiti. Aveva lanciato poi anche un appello ai tedeschi, aveva detto, vi rideremo indietro tutto quello che ci prestate. Ma Samaras aveva chiesto, soprattutto a tempo, noi non ce la facciamo, abbiamo bisogno di una proroga. Così ci strozzate, dovete dare il tempo alla nostra economia di riprendersi. Juncker e la Merkel avevano detto non proprio un no, avevano detto un ni. Se ne riparlerà comunque ad ottobre. Perché? Perché prima vogliamo vedere i dati, i dossier che la Troica, cioè il Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e quant'altro, stanno preparando su di voi. Quindi se ne riparlerà a ottobre. Oggi però è arrivato un secco no, un man, anzi, da parte del superfalco per eccellenza, il ministro delle finanze tedesco Schoeble. Cosa ha detto? Ha detto, non se ne parla proprio, dare più tempo alla Grecia vuol dire dare comunque altri soldi, come se noi dessimo altri soldi. Questo accade peraltro nel giorno in cui c'era grande attesa per quello che sarò definito, forse con un po' troppa enfasi, il supervertice europeo, cioè quel vertice che si sta svolgendo a Berlino fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Hollande. Un vertice che in realtà è ancora in corso, anche se già c'è stata una dichiarazione congiunta. Ci sarà e continuerà ancora con una cena sostanzialmente di lavoro, quindi altre notizie arriveranno probabilmente nelle prossime ore. Beh, chi attendeva, chi pensava che dalla Germania ci sarebbe stato comunque un ammorbidimento, quantomeno dalla parte della Merkel, è andato e andrà deluso. Allora, è evidente che la crisi internazionale, come sempre, ci porta a parlare, a preoccuparci, soprattutto, anche dei guai di casa nostra, che hanno nomi ben precisi, crisi di mercato, disoccupazione, disoccupazione che colpisce soprattutto le nuove generazioni giovani. Ebbene, di giovani oggi ha parlato il ministro del lavoro Elsa Fornero, un incontro pubblico al meeting di Rimi di Comunione e Liberazione con il leader della Cisbolani e ha affermato io domani al Consiglio dei Ministri, che è previsto domani, il primo ruolo a breve pausa ostiva, porterò un piano per i giovani. Poi ha anche detto dell'altro, ha affermato le tasse, le tasse sul lavoro sono troppo alte, dobbiamo abbassarle, perché sono troppo alte sulla busta paga dei lavoratori. A questo punto, fra le altre notizie di cui parleremo, ce n'è una che stiamo seguendo da alcuni giorni. E sono queste polemiche che stanno continuando sulla decisione di far pagare ai terremotati dell'Emilia Romagna il LIMU e l'IRPEF già a partire dal primo ottobre. Se ne parlerà anche in questo caso domani, quindi potrebbero arrivare delle decisioni, diciamo, positive per i terremotati. Se ne parlerà il Consiglio dei Ministri, intanto la CGL fa fuoco e fiamme perché afferma, guardate, voi non lo sapete, abbiamo fatto dei calcoli, alcune, in alcuni casi, le buste paga dei lavoratori potrebbero addirittura essere azzerate. Ecco, queste sono le notizie, diciamo, principali, ma ce ne sono molte altre. Iniziamo con la lettura dei titoli. Il salvataggio della Grecia al centro dei colloqui a Berlino tra la Merkel e Hollande, entrambi favorevoli a che Atene resti nell'Eurozona, ma a patto che proseguono sulla strada delle riforme. La Caccellera tedesca rilancia l'invito a rispettare gli impegni e aspettare il rapporto della Troica. Per il presidente francese Atene deve fare tutti gli sforzi necessari per rimanere nell'Euro e nei prossimi due giorni sarà lo stesso premier greco, Samaras, a incontrarli. Sull'Europa si addensano le nuvi di una nuova recessione. Dagli Stati Uniti, a sorpresa, arrivano notizie di un aumento dei disoccupati e le borse del vecchio continente vanno tutte giù. Spread ancora in lieve salita, oggi è a 430 punti. Il ministro Fornero sottolinea la necessità di riturre dalla tassazione sul lavoro. Si parla di decontribuzione per le imprese, attenti al capitale umano. In arrivo anche misure mirate per i giovani. Il leader della CISL, Bonanni, apre a un Montibis. Senza di lui, dice, sarebbe un'incognita. Il vice segretario del PD, Enrico Letta, è ottimista su un rapido accordo per la nuova legge elettorale. Ma il PDL frena bruscamente. Per il capogruppo Cicchitto, annunci intempestivi mettono a rischio le intese. Di Pietro preoccupato che la nuova legge sia peggio della precedente. Nuovo avvertimento nei magistrati di Taranto. Le missioni inquinanti dell'Ilva devono cessare immediatamente. Le conseguenze sono ovvie. Secondo i sindacati, comunque l'azienda, che sta investendo 146 milioni di euro per l'acciaieria, per ora non pensa alla cassa integrazione. Dopo la condanna in appello, l'allenatore della Juventus, Conte, si sfoga e se la prende con il giudice. Da lui cose mai viste. Forse la mia colpa è quella di essere la Juventus e di vincere. Da presidente del CONI una replica durissima. Basta, attacchi e polemiche. Allora, buonasera e benvenuti al Tg della Sette. Come vi dicevamo, nell'anteprima apriamo con la crisi internazionale. Parlare della crisi internazionale ci porta evidentemente in crisi in Grecia, il paese che rischia il default con un effetto che potrebbe essere catastrofico, un effetto a cascata per tutti gli altri paesi dell'Europa, Italia e Spagna per prima. Ebbene, oggi c'era molta attesa per un vertice, un vertice molto importante che si è svolto a Berlino, fra Germania e Francia, quindi fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il nuovo presidente francese Hollande. Ebbene, chi si aspettava in qualche modo dell'ammorbidimento nelle posizioni tedesche nei riguardi della Grecia è andato deluso. Sono arrivati puntualissimi all'appuntamento con i microfoni, ma l'atmosfera era quella che era, basso profilo insomma. Peraltro tra la scelta di tenere una conferenza stampa, e lì le domande sarebbero state cavillose, quella di rilasciare una dichiarazione iniziale ha vinto quest'ultima, cioè ha vinto la Germania, che non voleva scendere nei dettagli, preferendo il preconfezionato diplomatico al rischio di dover scendere invece nei dettagli. Che come è chiaro, soprattutto sulla Grecia non ci sono proprio. Angela Merkel ha dichiarato che è importante incoraggiare Atene sulla strada delle riforme, rilanciando il suo solito invito a rispettare gli impegni e aspettare il rapporto della Troica. Hollande ha detto invece che la Grecia deve rimanere nell'euro e fare gli sforzi necessari per riuscirci. Samaras domani vedrà la cancelliera, dopodomani il presidente. Il senso? Per Atene al momento non ci sono né soldi né tempo in più. Rimane rimandata ottobre. Difficile. Non c'è commentatore che abbia avuto aggettivo diverso per definire il vertice di questa sera. Sullo sfondo un asse tra i due paesi, accreditato per ora più dalla storia che dall'attualità, ma anche segnato nelle attese dalla questione greca che in queste ore riprende quota, fa discutere così come torna a preoccupare e non poco. Le diplomazie alla fine hanno fatto filtrare che certo di Grecia si parlerà, ma anche di altro come di Siria, equilibri internazionali, pietanze insomma inevitabili in una scena di lavoro tra le due superpotenze europee economicamente non solo intese. Il succo di tutto è che Berlino oggi è arrivato al vertice forte di risultati sul fronte dei conti pubblici che hanno dell'incredibile, a parte il più 0,3% di pillo nel secondo trimestre, un avanzo primario da oltre 8 miliardi di euro, e a frenare le lancette dell'orologio greco non ci pensa proprio. Possibilità che invece Parigi non scarta. Quando si incontrarono a maggio tutti ben ricordano che Hollanda era reduce dalla sua vittoria per l'Eliseo, qualcosa che in quei giorni faceva dire che nel cuore dell'Europa che conta arrivava se non uno sparigliatore, uno certo non troppo allineato. Nella sua campagna elettorale Hollanda aveva insistito sulla crescita e non era allergico agli eurobond. Furono questi due dei suoi cavalli elettorali. Si aggiunse poi un comune sentire con Mario Monti che fece recuperare punti all'Italia. A insistere sulla crescita, se non altro da quel momento, nei vertici sarebbero stati in due. Ma di crescita oggi a Berlino non si parlerà. E da quel palchetto, più di una stretta di mano, Merkel e Hollande non concedono. E la situazione in Grecia continua a pesare ovviamente sull'andamento delle borse internazionali con il ministro tedesco delle finanze, Schoeble, nella parte che è più consueta, quello del superfalco. A questo aggiungiamo anche i dati negativi sull'occupazione in arrivo dagli Stati Uniti. Non si attendevano dati così negativi. E il gioco è il risultato. Qual è? Segno negativo su tutte le borse, comprese quella di Milano. Non è chiaro se la Germania, che oggi trattava con la Francia, sia sempre la stessa. Di fatto è comunque Berlino che ha dettato la linea ai mercati. Sull'onda delle parole del ministro delle finanze tedesco Schoeble, che è tornato falco chissà se solo per un giorno, dichiarando che garantire più tempo alla Grecia per realizzare i tagli di bilancio non risolverebbe i problemi. E che l'Europa, quel che doveva fare, anzi poteva fare, l'ha già fatto. Come dire, le cartucce sono già state sparate tutte. E sempre lei, la Grecia, piomba a questo punto nel suo ruolo di tarlo del mercato. Prova ne sia l'andamento delle borse di oggi. Milano ha perso quasi un punto e mezzo, mostrandosi più nervosa di Parigi, Francoforte e Madrid. Ma quel 2% di flessione della borsa di Atene, che mantiene in Grecia l'ombelico della crisi, non è una perdita eccezionale. La storia ne ricorda di ben peggiori, ma è simbolico. Nel ribasso di oggi, onestamente, va detto che non mancano complicità fuori dall'Europa. Ha fatto paura il dato cinese, che sancisce un rallentamento del settore manifatturiero. E lo fa, quindi, in uno degli ultimi paesi che sembravano avere la forza di tirare ancora. E forse anche più di questo, fare paura è stata l'impennata dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Nella settimana del 18 agosto, la richiesta è aumentata di 4.000 unità. Ma oltre l'oceano si guarda anche la Federal Reserve, che sarebbe pronta ad adottare nuove azioni a stimolo dell'economia americana, nel caso ci fossero altri segnali di rallentamento. Ed è proprio il rallentamento ad alimentare timori, tornando in casa nostra. L'attività privata delle imprese europee si è contratta per il settimo mese consecutivo. L'indice di settore PMI a luglio è rimasto sugli stessi livelli recessivi dei mesi precedenti, sebbene sul futuro dell'Europa pesi ancora l'incognita Atene. Ai pessimisti il premier greco Samaras ha lanciato un chiaro appello. Basta speculare sull'uscita della Grecia dall'euro, ha detto, il costo sarebbe troppo alto per tutti. E se lo spread continua a misurare la temperatura della fiducia, la chiusura di oggi, a quota 432 punti, dice che un po' di nervosismo è tornato a bussare sui mercati. La crisi internazionale dunque che colpisce anche nel nostro paese le fasce più deboli della popolazione, fra queste ci sono evidentemente anche i giovani, le nuove generazioni che paradossalmente non devono difendere il loro posto di lavoro, nel senso che il loro posto di lavoro loro ancora non ce l'hanno. Allora, di giovani ha parlato oggi il ministro Elsa Fornero, un incontro con il leader della CISL Bonanno che è avvenuto al meeting di comunione e liberazione a Rimini. Domani al Consiglio dei Ministri proporrò un piano per i giovani, ha detto il ministro che poi ha affermato le tasse sul lavoro sono troppo alte, bisogna abbassarle. Sentiamo. Si ferma e parla con due ragazzi apprendisti allo stand di Federlegno. Diventa un bravo falegname, non avrai problemi. Parola di ministro del lavoro, nessun consiglio più preciso e del resto oggi al meeting di CL il problema dell'occupazione dei giovani era il primo in agenda. Noi dobbiamo mirare soprattutto a favorire una rapida transizione scuola-lavoro. Arriva scortata dal segretario della CISL Bonanni che qui è di casa, non è una coppia tipica, ormai si conoscono bene. Quando il ministro parla di interventi mirati, microfinanziamenti, attenzione a non sprecare risorse nel compito di dare lavoro ai giovani, lui chiede concretezza. La Fornero si sforzi per allestire un tavolo dove ognuno possa dire la propria e dove ogni possibilità e ogni proposta sia trasparente. Sono stati mesi difficili con un pericolo che mette a rischio tutto il sistema. Cercare di arginare la possibilità vicina di una crisi finanziaria è stato il primo compito di questo governo. Non si può crescere se si è sotto l'incubo di una crisi finanziaria. Gira la trottola di legno e la tiene come portafortuna domani il Consiglio dei Ministri. Importante perché non ci sono affanni da decreti urgenti da approvare. Lì presenterà la sua proposta per la riduzione del cuneo fiscale retributivo. Io ho fatto il mio compito delle vacanze. L'idea di magari legare la decontribuzione alla presentazione di un bilancio sul capitale umano potrebbe, credo, essere un'idea buona. L'accoglienza al Ministro è rispettosa. Più calda quella a Bonanni. Elsa Fornero non dimentica di essere un'insegnante e così interroga chi sta lavorando allo stand del welfare. Dov'è una persona che può rispondere? Io voglio vedere se dà la risposta giusta, corretta. Come i colleghi di governo, Montepassera ricorda subito di avere una scadenza nel ruolo. Si definisce Ministro di breve corso, paragonata a Bonanni, sindacalista di lungo corso, che sfrutta l'occasione per aprire un Montibis. Non mi pare che in momenti così tormentati ci siano alle viste statisti, persone di grande personalità e di grande prestigio e di grandi garanzie come Monti. E il futuro di Elsa Fornero è in sei parole. Non intendo candidarmi alle prossime elezioni. Allora, avete sentito Bonanni e la Fornero. Allora, comunque bisogna fare in fretta, bisogna fare in fretta con il piano per i giovani, anche perché nel frattempo le elezioni si avvicinano. È urgente quindi a questo punto però cambiare la legge elettorale, l'odiatissimo Porcellum. L'accordo fra i principali partiti sembrerebbe esserci, anche se non è proprio dietro l'angolo. Vediamo a che punto siamo. Accordo sulla nuova legge elettorale a portata di mano, annuncia dal PD Enrico Letta. Ma l'Udc cesa rettifica. L'accordo ancora no, ma ci sono le condizioni. E il PDL Cicchitto rimette tutto in discussione. Preannunci intempestivi rischiano solo di complicare le cose. Uno stop and go dal sapore nostrano in cui di certo c'è solo che il 29 agosto si ricomincia. Il comitato ristretto che sta lavorando al Senato per raggiungere il tanto evocato accordo sulla legge elettorale si riunirà per la prima volta dopo la pausa estiva, dando il via ad una settimana cruciale. Dietro le quinte, i tecnici dei tre partiti della maggioranza, per la verità, non hanno mai smesso di lavorare, ma ora si tratta di mettere davvero nero su bianco. L'accordo raggiunto, ma che nessuno sembrerebbe voler certificare, avrebbe fissato i paletti di un sistema elettorale proporzionale con correttivi maggioritari. La prima novità riguarderebbe il premio di maggioranza al partito che vince e non alla coalizione. La spunta così il PDL, ma il fatto che il premio oscillerebbe tra il 10 e il 15% renderebbe di fatto un favore al partito di Bersani. La soglia di sbarramento sarebbe fissata al 5%. Il punto più controverso resta invece l'attribuzione dei seggi, che verrebbero assegnati con un mix di collegi uninominali e liste bloccate. Il pressing sul sistema delle preferenze resta un punto fermo. Per Gasparri sono l'unico modo per affidare agli elettori la vera scelta dei parlamentari. Il resto è logica barocca, che vedrà sempre i partiti imporre le proprie scelte. Ma il fatto che i nuovi collegi dovranno essere ridisegnati secondo l'ultimo censimento pone uno stop procedurale che ha un immediato risvolto politico. Se ci vogliono almeno due mesi per ridefinire i collegi, allora è certo che non ci sono i tempi per andare alle urne a novembre. Un ritardo procedurale che tutto sommato fa comodo a tutti, tranne a chi, come Di Pietro, teme che la nuova legge possa essere una superporcata. Peggio della precedente, lui preferirebbe andare alle urne subito. Allora, parliamo, d'altro, le inchieste, le inchieste sui privilegi della cosiddetta casta, qualunque casta essa sia, sono meritorie, perché in qualche modo, lo sappiamo, portano a conoscenza del paese, degli italiani, i fatti che spesso sono odiosi e sono tenuti nascosti. Ma qualche volta, come dire, i nostri segugi prendono la classica cantonata e sono costretti a fare marcia indietro, anche in una vicenda come quella che vedrete ora, in cui è rimasto coinvolto, e starò coinvolto, suo malgrado, il premier Mario Monti. Chi l'avrebbe detto che perfino la tranquilla Svizzera, il paese dei prati, delle mucche, degli orologi a cucù, no, non quella dei conti segreti, potesse entrare di prepotenza nel grottesco caleidoscopio mediatico della politica italiana. Potenza del sempre impetuoso vento anticasta in tutte le sue varianti. Qui, nella sua versione estiva, quella che soffia preferibilmente su scorte e vacanze dei potenti, che tutto investe, ma che non sempre travolge. Come nel caso della villetta a due piani in Ingadina, sparato in prima e in seconda pagina da il giornale Contro Monti e di riflesso Contro Vanity Fair, che alle vacanze del premier dedica un servizio in stile Heidi, ti sorridono i Monti. Diventato riposo a St. Moritz in una villa a due piani e costato, secondo il quotidiano, 10.000 euro la settimana. Questo è troppo, si devono essere detti. La stessa frase deve averla pensata però anche Monti, che sul sito del governo ha fatto pubblicare la sua versione della vacanza, ove si precisa che l'affitto pagato per l'appartamento condominiale di quattro vani, quindi non una villa su due piani, non è di 10.000 euro la settimana, ma di circa 15.000 franchi svizzeri, qualcosa come 12.500 euro, ma per quattro mesi da giugno a settembre. Monti ha potuto trattenersi soltanto una settimana circa, ha precisa la nota, ma i suoi familiari hanno utilizzato e utilizzeranno l'appartamento più volte in questo periodo. Come negli anni precedenti, si legge ancora, sia il contratto che il pagamento effettuato da Monti sono avvenuti nel rispetto delle norme italiane e svizzere. Una replica che sa quasi di replica di quella ancora più tecnica che il Presidente del Consiglio si sentì in dovere di rendere nota a gennaio, dopo l'interrogazione di Calderoli relativa alla presunta festa organizzata per Capodanno a Palazzo Chigi e con la quale il Premier, puntiglioso, ci regalò ogni dettaglio perfino da che ora a che ora la cena si era svolta dove la signora Monti aveva comprato i tortellini e dove il cotechino. Allora, d'inverno, Monti lo si accusava di festa privata in struttura pubblica. Stavolta, d'estate, nel verde dell'Engadina, di feste private in vallate pubbliche anche se oltre confine. Allora, veniamo alla vicenda dell'Ilva. Oggi c'è stato un importante vertice al Palazzo di Giustizia di Taranto fra il procuratore della Repubblica Sebastro ai custodi giudiziari dell'Ilva. Il magistrato è stato chiaro la priorità detto è lo stop all'inquinamento ora servono i fatti e comunque a pagare per la bonifica deve essere l'azienda e non lo Stato. Una cosa è certa e lo aveva detto anche il Tribunale del Riesame. Le emissioni inquinanti devono cessare ma bisogna evitare nei limiti del possibile danni e quindi la distruzione degli impianti. Così il procuratore capo di Taranto Franco Sebastro dopo l'incontro di stamattina a Palazzo di Giustizia con tre custodi giudiziali nominati dal Gip Todisco e con i carabinieri del NOE che hanno condotto le indagini. Un vertice deciso proprio per definire la tempistica sugli interventi da realizzare nello stabilimento siderurgico più grande d'Europa sequestrato dalla magistratura il 26 luglio scorso per disastro ambientale e doluso. Operazioni mirate per mettere a norma gli impianti inquinanti. Sono operazioni tecniche guardate che parliamo di impianti in relazione ai quali sono già state fra l'altro raccomandate anche cauteli anche dallo stesso tribunale di esame e non ce n'era manco bisogno perché già lo avevamo lo avevamo già anticipato. Sebastio invita a risanare il più rapidamente possibile con prudenza le valutazioni spettano ai custodi amministratori già nelle condizioni di operare. Ci sono impianti che per risanare devono essere spenti spiega Sebastio altri che vanno tenuti accesi ma non per finalità produttive e ci sono infine impianti che vanno tenuti accesi con una produzione al minimo. Contemporaneamente al vertice in procura l'incontro dell'ILVA tra il presidente Ferrante e i sindacati metalmeccanici. La preoccupazione è che la riduzione del ciclo produttivo possa determinare la perdita di posti di lavoro e il ricorso alla cassa integrazione ma di ammortizzatori sociali con questa azienda non abbiamo mai parlato nemmeno oggi chiariscono i sindacalisti. Per parte sua l'ILVA sottolinea che i 146 milioni di euro annunciati sono gli investimenti che l'azienda ha già speso e continuerà a spendere per il risanamento in base alle prescrizioni della vecchia AIA l'autorizzazione integrata ambientale necessaria per la produzione. Adesso si aspetta l'adeguamento alla nuova AIA la commissione che se ne occupa dovrebbe giungere alle conclusioni entro la fine di settembre. Solo allora l'ILVA deciderà quanto stanziare per gli interventi di risanamento fanno sapere i sindacati che a proposito della cifra prevista dicono anche Ferrante è consapevole che i soldi sono pochi ne serviranno molti altri. Quindi l'ILVA ma nei giorni scorsi abbiamo parlato delle altre nostre aziende in crisi ad esempio la fabbrica pomigliano Darko e poi della Fiat poi l'Alcoa in Sardegna i problemi delle nostre aziende italiane. Chi invece pare proprio non avere alcun tipo di problemi è la cosiddetta locomotiva europea cioè la potente Germania l'avete sentito anche nel servizio d'apertura viaggia ve le spiegate con conti in ordine addirittura con il PIL in attivo e in aumento ma la crisi in questo caso riguarda il settore automobilistico si fa sentire anche lì perché l'Opel ha infatti deciso per i suoi lavoratori l'introduzione da settembre della settimana corta con i dipendenti che dovranno rinunciare al 6% dello stipendio netto. E ora la crisi dell'auto arriva anche in Germania l'Opel lo storico marchio tedesco introduce la settimana corta in due dei suoi impianti orari e salari più bassi per le tute blu tedesca che si ritrovano a fare i conti con gli stessi problemi dei colleghi di Pomigliano e Mirafiori lo scenario è questo nei primi sei mesi dell'anno sono state immatricolate 500.000 auto in meno in Europa se nello stesso periodo del 2011 erano quasi 7.400.000 quest'anno si è scese a 6.900.000 una diminuzione del 6,3% vittime del calo di domanda europea certo ma anche delle politiche di concorrenza che ora sembrano mietere anche in patria ricordiamo che neanche un mese fa l'amministratore delegato della Fiat Chrysler Sergio Marchionne aveva denunciato pubblicamente la Volkswagen la sua politica di sconti aggressivi aveva detto sta provocando un bagno di sangue sui prezzi e sui margini in un mercato con forti perdite chi ha la forza di pagare molto e vendere a poco costringe gli altri alla chiusura e la Volkswagen oggi può contare oltre ovviamente sulla qualità del loro prodotto su una politica monetaria assai favorevole ottenere prestiti e finanziamenti per un'azienda vicino al governo tedesco è decisamente più facile che per qualsiasi altra azienda europea se non del mondo quando parliamo di spread sui tassi in confronto con la Germania parliamo anche di questo uno dopo l'altro arrivano i colpi 8.000 suberi annunciati dalla Peugeot in Francia cassa integrazione negli stabilimenti di fabbrica Italia a singhiozzo fino a ottobre ricordiamo che inizio agosto sono finiti in cassa gli oltre 2.000 della sede di Pomigliano mentre di due giorni fa l'inizio della cassa per una settimana a Termoli dove sono in 3.000 a incrociare le braccia e ora tocca alla Opel tedesca sì ma solo di marchio l'azienda è infatti controllata dal gigante americano General Motors che di certo non può fare affidamento sulla Bundesbank per le proprie politiche industriali in Emilia Romagna i dipendenti rischiano di vedere in qualche cosa addirittura zerate le loro buste paga questo è l'allarme lanciato oggi dalla CGL che critica la decisione di far pagare le tasse anche ai termotati dell'Emilia Romagna a partire dal 1 ottobre ma questa è una vicenda di cui si parlerà molto probabilmente domani al Consiglio dei Ministri Mario Monti si presentò in Emilia il 22 maggio un lungo giro prima a Sant'Agostino in mezzo a qualche fischio e poi nelle tende a finale Emilia il Premier fece un annuncio prenderemo non appena possibile un provvedimento per quanto riguarda i pagamenti fiscali dopo Monti in Emilia andò in visita il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano commosso nel campo di Mirandola Napolitano annunciò che avrebbe fatto il cane da guardia della ricostruzione vi rialzerete voi con le vostre fabbriche con le vostre attività con le vostre case siamo una grande nazione che non può venire meno ai suoi doveri quando una parte di essa è ferita a morte poi si presentò il Papa a Novi di Modena Ratzinger spiegò che bisognava fare come nel dopoguerra in pratica serviva un piano Marshall per l'Emilia non siete non sarete soli esattamente tre mesi dopo il viaggio di Monti in Emilia è scoppiato il caso delle tasse se le cose restano così da ottobre nelle zone terremotate in Emilia in Lombardia in Veneto si paga tutto IRPEF IMU IVA contributi previdenziali ieri i governatori hanno scritto a Palazzo Chigi anche i sindacati lo hanno fatto prolungate l'esenzione fiscale oggi la CGL ha tirato due calcoli se non ci sarà una proroga la situazione diventerà insostenibile con le trattenute e la restituzione del pregresso in un colpo solo le buste paga diventerebbero vicine al zero così tutti chiedono che si faccia come all'Aquila in Abruzzo è andata in questo modo una sospensione di due anni e poi uno sconto del 60% sui contributi che non erano stati versati il 40% che restava fuori diluito in 120 rate gli aquilani ci arrivarono con una manifestazione a Roma finita a botte con la polizia Monti e i suoi ministri si occuperanno della questione domani a Palazzo Chigi si parla di una proroga per chi ha ancora casa o impresa inagibile soltanto in Emilia dopo il terremoto ci sono 13.000 immobili completamente inagibili e 10.000 parzialmente fra aziende abitazioni scuole ed esercizi commerciali i lavoratori in cassa integrazione sono 37.500 gli sfollati ancora 14.000 i danni solo al sistema produttivo pari a 5 miliardi di euro veniamo ora alle notizie internazionali con la Siria l'Italia aiuterà l'opposizione siriana questo lo conferma il ministro degli esteri terzi che affermando che verranno consegnate ribelli strumentazioni di comunicazione che serviranno ad impedire gli attacchi ai civili nei prossimi giorni inoltre conferma sempre il ministro degli esteri l'Italia ospiterà una riunione proprio sulla crisi siriana intanto nel paese in furio di combattimenti con l'esercito di Assad che ha conquistato i quartieri cristiani nel centro di Aleppo dice Ghedan Adigatilov vice ministro degli esteri russo abbiamo ricevuto garanzie dal governo siriano che non verranno usate armi chimiche posso assicurare che sono stati svolti controlli serissimi e non ci sono reali minacce in questo senso poi aggiunge la situazione complicata di scontri continuano e tra gli oppositori è ben noto ci siano elementi legati ad Al-Qaeda se armi chimiche finissero in mano a terroristi dichiarati ciò produrrebbe sviluppi molto seri Moskensum scende in campo più che nel passato recente della guerra civile siriana si fa garante per il regime di Damasco regime che come informa la sua agenzia di stampa continua con successo la sua caccia ai terroristi ad Aleppo le forze di Assad hanno riconquistato il controllo di tre quartieri cristiani ma il grosso della città è sempre in mano alle forze insorte contro il presidente siriano queste altre immagini arrivano dalle regioni di Hama qui è operativa la brigata Farouk dell'esercito libero la guida un ex ufficiale di Assad Afif Suleiman e questo è l'attacco sferrato in mattinata contro un checkpoint dell'esercito regolare attacco violento accompagnato da molte esplosioni ed incendi alla fine sulla torretta di guardia non si muove più nessuno questo invece è il funerale di alcuni bambini uccisi ieri durante i violenti bombardamenti che l'esercito di Assad ha concentrato sulla capitale Damasco bombardamenti continuati anche oggi in particolare contro i quartieri meridionali ieri delle oltre 200 vittime contate alla fine di una giornata particolarmente dura ben 189 erano civili non armati un problema quello delle vittime civili che il nostro paese vuole provare a risolvere almeno in parte inviando strumenti di comunicazione utili appunto a prevenire attacchi contro obiettivi non militari lo ha fatto sapere il ministro degli esteri terzi mentre la croce rossa italiana ha stanziato 350 mila euro per le emergenze sanitarie più urgenti vista la drammatica situazione creatasi negli ospedali del paese privi praticamente di tutto oramai da giorni dice questa donna l'esercito libero ha bisogno dell'aiuto di Dio i miliziari fanno del loro meglio ma per un paese grande e popoloso come il nostro non è abbastanza dopo la condanna 10 mesi di squalifica per Conte oggi il tecnico della Juventus dice la sua in una conferenza stampa di fuoco afferma mi hanno colpito perché ho vinto quando nessuno se lo aspettava e sono stato condannato da giudici tifosi sentiamo mi è successo di arrivare in una squadra amata odiata da tutti e vincere quando nessuno se lo aspettava Antonio Conte si difende attaccando come fosse una partita di calcio ma di calcio non c'è più nulla in questa vicenda si tratta di un vero e proprio scontro con la giustizia sportiva in 5 anni ho vinto 3 scudetti uno scudetto ho fatto due promozioni sono antipatico perché vinco non è un problema mio lo sfogo urlato di Antonio Conte è durissimo il tono usato è tra l'ironia e l'insofferenza sono sette mesi che si continua a dire di questa famosa ormai diventata famosissima riunione tecnica prima di Novara Siena in cui si dice che io parlo ai miei calciatori e rassicuro tutti in virtù di un pareggio questa è stata l'accusa infamante che ha portato Antonio Conte al calcio scommesse ad essere lo spot di questo calcio scommesse in merito alla figura del grande accusatore Filippo Carobbio Conte ha un'idea ben precisa un personaggio Carobbio usato in maniera diversa a seconda delle circostanze lo considerano un collaboratore di giustizia vedendo che l'hanno sentito cinque volte e vedendo che l'hanno sentito l'ultima volta il 10 luglio prima che ascoltassero meglio lo considero più un aggiustatore di presunta giustizia nel processo d'appello è caduto uno dei due capi d'accusa Conte sperava quindi in una riduzione della pena ma non è andata così perché come si legge dalle motivazioni pubblicate sul sito della Federcalcio Conte avrebbe rischiato anche una squalifica di tre anni per illecito e non per omessa denuncia ad incastrare e complicare la situazione del tecnico bianconero è stata la confessione del suo collaboratore tecnico Stellini il quale ha ammesso la sua partecipazione all'illecito per la gara al Binoleff Siena ma non è finita perché Conte attacca anche Piero Sandulli giudice della Corte Federale che aveva anticipato ad una radio le motivazioni del provvedimento la Federcalcio ha segnalato alla commissione di garanzia sulla giustizia sportiva il comportamento di Sandulli vedo un signore che forse per uscire sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali grazie a me e al mio nome prende e fa delle dichiarazioni quantomeno inopportune non so se da tifoso ma sicuramente inopportune e dunque un Antonio Conte sulla stessa lunghezza d'onda del suo presidente Andrea Agnelli ha scatenato la reazione del presidente del CONI Gianni Pietrucci basta con gli attacchi alla giustizia sportiva ha detto Pietrucci queste esibizioni muscolari mostrano il lato peggiore di uno sport che non merita mortificazioni ora una breve pausa per la pubblicità subito dopo avremo in onda si parlerà della trattativa Stato-Mafia col coinvolgimento il Quirinale Enrico De Aglio in collegamento da Monterosso Gad Lerner in collegamento da Milano ora la pausa per la pubblicità Allora di nuovo in studio velocemente un ultimo aggiornamento delle notizie vediamo come sta andando Wall Street sta andando male sull'onda evidentemente ne abbiamo parlato dei dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti allora il Dow Jones perde lo 0,84 il Nasdaq lo 0,73 allora vi lascio ora in onda e noi ci vediamo domani alle 20 interioreggi Grazie a tutti